Tu, e se ti lascia lo sai che ti fa, trovi un altro più bello, che il problema non ha. Sentito questa sigla dedicata a un omaggio a Raffaella Carrati Letta? Bellissimo, lei che è stata un'icona e non la dimenticheremo mai. Un'icona, verrà giustissimo ricordarlo, in un'occasione come questa lei ha fatto un po' anche la storia dell'innovazione musicale e ora tra un po' parliamo di innovazione. Sì, certo. Scusate, eh. Fate tranquillamente. C'è qualcun altro che vuole fare qualche cosa? No, scherzo. Ah, ma è lui, eh. Lui è stato, che tra l'altro è mio cugino, eh. È Furbetto. È Furbetto. Bravo. Bene. Di Letta, abbiamo fatto questo ingresso. Abbiamo fatto una bellissima stilata. Devo dire che mi sono sentita molto a miaggio al tuo fianco, andavi bello spedito, sei super sicuro, ormai hai preso totalmente possesso di questo posto. Questo è il tuo palco, è la casa tua. Mi diverto. Bravo, ti diverti. E fai bene e si vede. Io sono contenta che intanto, insomma, ricominciamo adesso questo pomeriggio insieme, che la sala è così tanto piena. Vedo che stanno entrando ancora altre persone, spero che vi stiate divertendo, che stia un bel pomeriggio insieme, perché tra poco, tra l'altro, ci divertiremo molto. Vogliamo spoilerare chi c'è dietro le quinte o non lo spoileriamo? Allora, prima io farei questa cosa, perché nel 2019, insieme a te, abbiamo fatto il LIS Web Marketing Festival. Sì. Visto che ora siamo passati a We Make Future, il primo giorno le interprete LIS di Rai ci hanno fatto vedere come si fa. Quindi ora provo ad insegnartelo io e lo facciamo, anzi, insegniamolo a diletta, vediamo. Vai. Cioè noi costruiamo il futuro, il LIS è prima noi, futuro e dopo costruiamo. Ok. Ci sono? Ah, ci siete, salite così, salite che lo facciamo insieme. Insegnatemelo, com'è? È semplice? È facilissimo, facilissimo. Ok. Tra l'altro voglio fare i complimenti anche a Zilieva che ha fatto un disegno digitale meraviglioso, lo avete visto all'inizio, prima della nostra sigla, è stata pazzesca. Fantastico, un applauso. Allora. Eccoli. Grazie ancora a Rai Accessibilità che sta interpretando i momenti di show e di intrattenimento. Quindi è noi, rifacciamolo, noi, futuro, e questo è un po' più difficile, rifacciamo. No, 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 di Web Marketing Festival, cambiamo nome. Noi, futuro, costruiamo. Fantastico. Bravi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti